ciao amici ciao amiche iea ben ritrovati sul canale di coppia davide chiara channel bene questa sera mega video spesa fatto da s lunga e veramente l'abbiamo svaliggiata con gli sconti del 30 40 e 50 per cento e niente adesso facciamo giriamo l'inquadratura facciamo il film immagine dello scontrino e via con la carellate di prodotti allora siamo andati a spendere la modica cifra di 176 euro e 79 centesimi perché c'erano veramente tantissimi sconti ormai io e quello che consegna la spesa siamo diventati amici giriamo perché qua è lungo ecco qua bene iniziamo dato che ce li ho sotto mano abbiamo preso tre bouquet di broccoli piccoli fantastici peccato i gran piccolini sono riuscito a chiapparne uno grande ma gli altri non piccoli e questi qua li abbiamo pagati 1 euro e 11 centesimi pochissimo poi abbiamo preso il solito pane filatino pagato 1 euro e 52 centesimi questo qua lo fa l'azione lunga proprio ed è buonissimo morbido infatti questa sera lo metteremo in freezer poi purtroppo ci siamo fatti tentare adesso vi spiego perché abbiamo preso due confezioni di pan di stelle perché in omaggio c'era la confezione di pan di stelle biscotti che sono nuovi con la crema dentro e quindi ci siamo fatti dentare qua vedete c'è un incavo che si può riempire con la crema o pan di stelle o la nutella noi ci siamo fatti a tirare dai pan di stelle nuovi e ben dato proviamo già i classici sono buoni figuriamoci questi ragazzi allora poi abbiamo preso tre cabaret di tagliata di nonza per fare i mitici in voltini scontati del 20 per cento allora questo pagato 1 euro e 62 questo pagato 1 euro e 73 e infine l'ultimo è stato pagato 1 euro e 82 centesimi poi sempre di carne io ho preso la mia bella coppa senza osso che adoro tanto questa qua l'ho pagata 2 euro e 55 questa è stata pagata a 2 euro e 29 ed è molto buona poi per la succerina abbiamo preso il carpaccio pagato 3 euro e 0 4 centesimi scontato del 20 per cento e mi piace tantissimo scontata del 20 per cento allora questa pagata 3 euro e 19 questa pagata 2 euro e 42 e infine quest'altra pagata 3 euro e 83 centesimi bene ragazzi abbiamo fatto un poker di flauti alla stracciatella sono veramente buoni ma non pensati abbiamo la scorta abbiamo voluto riempire la scorta perché tutte le cose che vedrete poi non ci sono solo le schifezze ma abbiamo preso anche tante altre cose sempre da mettere nella scorta poi vedrete il video della nostra dispensa per la scocerina abbiamo preso questa tinta e davide farà il video la tinta la scocerina la faccio aiuto a far davide in base che noi copriamo i capelli diamo e poi vediamo e non l'anno prossimo poi abbiamo preso una confezione di pomodoro grappolo pagata 1 euro e 35 perché i perini è bene più periodo ce n'è più abbiamo preso una confezione sugo pronto allo scoglio per no con pomodoro frutti di mare per fare un mix con gli spaghetti sono molto buoni era in offerta 450 grammi però mi sono non mi sono ricordato che non è la stessa confezione che prendeva mia madre e che non ne ho prese tre perché per una confezione penso che vada bene per due per due porzioni questo non lo so perché l'ha sempre cucinata mia madre poi ragazzi qua domani di sera abbiamo ospiti giustamente non facciamo vlog perché vogliamo stare sereni e tranquilli abbiamo preso due confezioni di profiterol 500 grammi in uno dato che siamo un po un chilo facciamo due o tre palla a testa qualcuno non c'era una palla poi su richiesta della susserena abbiamo preso un albero ho preso due guardate quattro sono due sono due amore così tanto? avete vero tre? no sono due confezioni si sono due com'è che si chiamano due ceppi di coste catalonia no di catalonia infatti mi si è spaccato il sacchetto alla cassa e ho dovuto chiedere la cassiera marato sto sacchettino qua cioè guardate qua che sacchetto marato per questi due ceppi e questi qua li ho pagati un euro e qualcosa andate a vedere lo scontreno sempre per la scorta freezer abbiamo preso i nuggets di pollo party perché arriverà al pozzo e quindi il misero freezer diventerà un gigantesco pozzo e li metteremo dentro di tutti gli pieghi esatto poi abbiamo preso due confezioni di chelle di granchio che io ne vado matto le adoro spero che me le cucini più prezzo della mia mogliettina e poi abbiamo preso della smart questo mega sacchettone di patatine da due chine e mezzo per inagolare la frigitrice via catena di montaggio qua ragazzi al reparto gastronomia abbiamo speso 16 euro e 68 centesimi 16 ore 69 centesimi abbiamo preso una vaschetta di nervetti per me le cipolle sedano prosciutto cotto polpettone in crosta nervetti con cipolle prosciutto cotto salame e polpettone in crosta siamo al tuo paloiea poi abbiamo preso quattro vassoi di salsiccio puro suino nato e allevato in italia allora questa pagata 2,27 questa pagata 3,05 questa pagata 2,19 questa pagata 2,03 poi abbiamo preso un vassoio di carne di tre da scelta questa qua per il ragù scontata del 20% pagata 3 euro e 66 centesimi sono due quando salta fuori l'altro facciamo vedere allora della Müller abbiamo preso di yogurt poi da battaglia scusa della Müller abbiamo preso di yogurt gusto pesca albicocca fragola ciliegie e cocco sono 8 vasetti i love frutta poi abbiamo preso due confezioni di finocchi questi qua penso che li farà gratinati non lo so uno pagato 1,28 euro l'altro pagato scusatemi 1,02 euro poi abbiamo preso la classica retina di limoni da un chilo che mia mamma non so li fa fuori come il pane poi abbiamo preso una confezione di mare blu torno all'olio d'oliva non ci sono non si sgocciola pronto all'uso per mangiarlo così poi mi sono preso lo spazzolino perché mi mancava abbiamo preso due confezioni di grana che poi uscirà il secondo abbiamo preso anche due confezioni di stracchino io non lo mangio perché non mi piace poi per la succellina abbiamo preso la crema all'aloe vera com'è che la chiama lei? aloe la chiama aloe e dietro c'è il regalo il mini formato il mini formato che non so cosa servo per le gambe per le gambe stanche poi mi sono preso per la scorta ragazzi il donante spray ax africa no frais cosa sto dicendo no c'è scritto africa ah giusto africa allora e ho preso anche per mio padre la schiuma da barba della gilette perché ho preso una scabrosa proprio allora abbiamo preso due confezioni di provola no scusate di scamorza normale non è piccante e marca la seleziona di no pettinicchio marca ah pettinicchio non l'avevo neanche vista poi su richiesta della succellina ho preso due ceppi di coste guardate le quote belle queste qua poi si fa una bella mangiata con queste poi sempre su richiesta della succellina ha voluto il pollo quello da cucinare e anziché prendere quello già aperto e fatto ho voluto prendere questo qua è stato pagato 2 euro e 82 centesimi neanche tanto e poi la confezione che non trovavo di carne di tirascelta per fare ragù pagata 3 euro e 43 centesimi scontata ai 20% poi abbiamo preso tre flaconi di ammorbidenti allora questo qua sono veramente grandi formato convenienza allora questo qua è con oli essenziali tipo mandarino e vaniglia è buono questo qua invece è alla lavanda e questo qua è il poli ergenico questo qua lo uso per i maglioni perché è più delicato e ha buon profumo ma con quelli giganti eh poi qua è uscita la seconda busta di grana mi avevo fatta vedere una non trovo l'altra poi della marca S lunga abbiamo preso le due confezioni di orecchiette da mezzo chilo l'una e non so perché ho visto il broccolo disegnato ho detto perché non le proviamo a fare con in realtà questo qua è una cima di rapa il fiore della cima però ci ha suggerito di farlo con i broccoli io ho detto perché non facciamo con i broccoli amore e proveremo a farlo con i broccoli non ci avevo fatto caso che era il fiore della cima di rapa perché orecchiette con le cimbrate però possiamo provare anche fare orecchiette e broccoli si poi chiara ha preso il solito casco di banali si ma nel tragitto non erano così se sono annelite si pagate un euro e 70 bisognerà fare un frullato pagate un euro e 74 centesimi questi qua io non so cosa dire sono assorbenti amore ho preso una pezza lunga perché tanto con ali quindi svolazzano quindi vanno bene poi sempre per la scorta ragazzi questi ormai fanno parte di noi e abbiamo preso praticamente quattro confezioni di ragù più extra gusto quindi c'ha più ragù degli altri è veramente buono ve lo consiglio carne italiana buono sconto 50 centesimi c'è che dietro su questa confezione e conviene sai perché? perché in offerta tu lo fai con questo paghi ancora meno tipo pazzi per la spesa in America hai mai visto il programma? no con questo buono sconto tu devi pagarlo ancora meno quindi abbiamo preso conviene prenderne altri questi qua vanno a finire tutti nella scorta poi lo tagliamo lo tagliamo Nicola mi piace troppo poi per Dennis la malica abbiamo preso il Kinder Pinguii al cocco poi della citeria abbiamo preso il salame confezionato questo qua è molto buono perché è della citeria poi abbiamo preso il petto di tacchino questo qua è molto buono da mangiare così in un panino poi ho preso una fila di salamini questa qua pagata 2 euro e 81 centesimi che dureranno da Natale a Santo Stefano perché sono buonissimi e sono riuscito a trovarli abbastanza morbidi anche per la socerina allora mangiate la socerina poi per la socerina questa è per me questa è per la mia mogliettina abbiamo preso la tinta per fare due ritocchi nei capelli non devo fare la tinta completa adesso vi faccio vedere qua tipo qui così ho 2-3 capelli bianchi e non mi piace quando li stiro si vedono non li ho ancora stirati però e poi da una parte ma sono proprio pochi però e allora farò tipo la tinta così qua sac sac e basta tutti gli altri capelli non li tocco e faccio solo questa cosa qua quindi questo mi durerà perché comunque faccio solo un ritocchino copro il bianco e basta poi della marca Smart abbiamo preso due confezioni di Emmental che sono veramente buoni 150 grammi a confezione e questi qua sono buoni da fare anche i toast le piadine con le piadine quello che si vuole poi per il socerino abbiamo preso questa bella bella forma di grana padano e questa qua l'abbiamo pagata 7,32 euro ho adocchiato l'unica che costava meno di tutte poi sotto in offerta logicamente abbiamo preso le classiche mozzarella della Santa Lucia per fare la pizza dovevano la pennella le medico esatto e poi come ultimo prodotto di questo video spesa fatto da essere lunga le due confezioni di Philadelphia alle erbe mediterranee che queste qua tra la socerina e mia moglie spariscono bene ragazzi spero che questo video spesa fatto estremo fatto da essere lunga vi sia piaciuto vi abbiamo interrattenuto e vi avete preso spunto dai prodotti che vi abbiamo mostrato io finalmente domani ne darò tagliarmi i capelli perché non ce la fa più niente ragazzi io vi auguro una buona serata un bacione il solito yeah e ciao